Il medico di origini san cataldesi Antonio Pesce ha il dodicesimo posto nell'elenco degli esperti a livello mondiale nel campo della colegistectomia laparoscopica. In base alle pubblicazioni sulla materia nel decennio 2012-2022, secondo Expertscape, il sito americano che classifica i professionisti e le istituzioni, analizzando secondo specifici parametri più di 29.000 aree biomediche. Un riconoscimento che si aggiunge ad una carriera ricca di premi e soddisfazioni per il medico classe 85, maturità classica, laureatosi in medicina e chirurgia a Catania nel 2009 con il massimo dei voti, specializzato in chirurgia generale con un punteggio di 70 su 70 nel 2016 per poi concludere un dottorato di ricerca nel 2019. Si è dedicato anche alla ricerca e all'insegnamento e adesso svolge il ruolo di dirigente medico nell'azienda unità sanitaria locale di Ferrara. Questa specifica classifica, stirata da un sito americano Expertscape, sono stati valutati il numero totale di pubblicazioni da parte di ricercatori mondiali nel campo della colisectomia laparoscopica nell'ultimo decennio, dal 2012-2022 e poter essere inserito in questa specifica classifica, soprattutto figurare nelle alte posizioni, in particolare nella dodicesima posizione, è una grande gioia, una grande soddisfazione da parte mia. Negli ultimi anni mi sono dedicato tanto alla ricerca in questo ambito, in particolar modo utilizzando anche delle tecniche innovative come la colangiografia fluorescente che permette di visualizzare, mediante appunto fluorescenza, l'albero biliare extrepatico durante l'intervento di colisectomia laparoscopica, quindi intraoperatoriamente, permettendo al chirurgo di lavorare in maggiore sicurezza, riducendo il rischio di lesioni di atrogene e migliorando la visualizzazione dell'albero biliare durante l'intervento. È un grande obiettivo raggiunto e spero di poterne conseguire tanti arti nel corso della mia carriera chirurgica.